Il Comune di Pesaro si sta adottando di un PEBO, un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. È stato presentato lo scorso 2 dicembre ed è un piano molto atteso da tante famiglie pesaresi. Oggi ne parliamo ad esempio con Lorenzo Ago che assiste un genitore disabile in via dell'Azzaretto, zona Porto, vicino al centro direzionale Benelli, dove ci troviamo in questo momento e che è già una struttura che presenta tante carenze da questo punto di vista di barriere architettoniche. Abbiamo bisogno dell'attuazione del piano PEBA già inaugurato, mancano anche delle piste dove le persone disabili possono entrare, per esempio in questo caso al centro Benelli e come vedrete anche in una via del centro storico dove abitiamo. Via dell'Azzaretto in tal proposito che è una via che presenta diverse difficoltà per chi è portatore di handicap, a cominciare da asfalti malmessi si parla di circa un ventennio che questa strada non viene asfaltata. Ci sono molte buche e molte persone che si sono anche fatte male, io compreso, in questa via. C'è anche un carico di traffico sostenuto per quanto è ristretta la via, lo si può vedere sia nel tema parcheggi, un po' deregolamentato e anche nella apposizione di alcuni paletti di delimitazione che dovrebbero salvaguardare comunque i pedoni ma allo stesso tempo diventano un limite per chi è portatore di handicap. Sono stati messi dei dissuasori questi paletti, però per esempio il divieto di parcheggio c'è da un lato della strada e non c'è dall'altro, quindi metà della strada che è percorsa anche a una certa velocità in senso unico è parcheggiata da ambo i lati dalle macchine, quindi lo spazio per i pedoni, specialmente i disabili, si riduce ulteriormente. Un altro problema forse sottostimato è quello anche delle durate dei tempi del semaforo. In questo caso abbiamo monitorato quello che dà sulla vicina via Cavour con un tempo di semaforo verde ridotto per quella che è la velocità di chi sospinge una carrozzina. Sì è vero, il semaforo verde dura esattamente 7 secondi, quindi le persone anche normodotate trovano difficoltà nell'attraversamento della strada. Qui servirebbero rampe, un maggiore controllo anche sul traffico e sui parcheggi, un'asfaltatura quanto mai opportuna per riuscire a fare sì che queste barriere architettoniche siano veramente un limite da eliminare. Speriamo che questa venga in tempi veloci perché, ripeto, questa zona è prevalentemente abitata da persone anziane e disabili, quindi noi siamo contenti, saremo contenti che questo piano di abbattimento delle barriere rientri pienamente nel Pesaro Capitale della Cultura 2024.